Cinico e concreto, il certosa di Mr. Raggi si rifà con gli interessi dopo il primo scivolone stagionale contro il Savio, rifilando tre gol ad un Cinecittà Bettini che sicuramente avrebbe meritato qualcosa in più rispetto a quanto detto dallo score finale. Il primo tempo è però tutto di marca bianco-verde con il vantaggio già al dodicesimo, quando Ciambellari si inventa letteralmente il gol dell'1-0, spedendo sotto l'incrocio il suo sinistro scoccato da appena dentro l'area di rigore. Dopodiché due giri di lancette più tardi potrebbe anche arrivare a doppio, ma prima Perry è bravo sulla conclusione di Miglio. Poi Calisto mette alto sopra la traversa il possibile tapin il numero 9 di Raggi, ci prova anche nel finale di tempo non trovando di un soffio. Il bersaglio con il diagonale nella ripresa al Cinecittà Bettini si sveglia e cerca di reagire. Già non gli ospiti sfiorano il pari, ma Casale non c'entra lo specchio dopo essere sbucato all'altezza del secondo palo. Poco dopo ci prova invece Fonseta, ma il suo destro da fuori, mette solamente i brividi a nocco dalla parte opposta. Il certo sa tornare a mordere con Simeoni, sul quale deve rispondere Perry, mentre al quarto d'ora è proprio un rinvio sbagliato del numero 1 ospite a regalare un assist d'ora a Demofonti, che cerca il gol d'antologia, ma non inquadre il bersaglio. L'ultimo tentativo del Bettini arriva al diciassettesimo con Fonseta, che scalda ancora il destro sfiorando l'incrocio. Per gli ospiti la notte cala però poco dopo, quando Simeoni perderà per Demofonti un cross col contagiri, sul quale l'attaccante di Raggi si avventa in tuffo facendo sfoggio del suo istinto da bomber, ma soprattutto piazzando il colpo del 2-0. Però, sulle ali dell'entusiasmo, il certosa va definitivamente in fuga al ventunesimo, quando Miglio scatta in dubbia posizione di offside, presentandosi davanti a Perry e timbrando il tris. Nel finale il Bettini potrebbe quantomeno trovare il gol della bandiera, ma a casale si rivola il 3-1 spedendo alto uno di quei palloni, su quale è più difficile sbagliare che segnare, mentre sul corner messo dentro al trentaduesimo, è il palo a dire di no Fonseta, l'ultimo brivido. E' però dei padroni di casa con Perry, che nega il poker, prima Demofonti e poi Mare Grande.